ti piace invito alla preghiera vorresti trovare sul canale sempre nuovi video la creazione di contenuti richiede molto tempo e molto impegno tu puoi supportarci guardando fino in fondo la pubblicità che precede i filmati invece di saltarla sono pochi secondi che a te non costano e non cambiano nulla ma che per noi sono un contributo molto importante e utile se vuoi fare crescere il canale puoi anche condividere il link sui social e farlo conoscere così ad altre persone grazie per essere parte della nostra comunità di preghiera dio ti benedica